Buon pomeriggio e benvenuti alle nostre breaking news. Rissa in strada, paura in via a Curtatone. Siamo quindi nella zona di Saione. Ancora un fatto di cronaca nella zona di Saione. Sicurezza in città e zone a rischio, partendo dall'ultimo episodio accaduto. La stessa Polizia Municipale traccia un quadro generale della situazione in città e tra i residenti cresce la paura. Villaggio Tirolese che saluta Piazza Grande, ma le attrazioni della città del Natale proseguono fino al prossimo 8 gennaio. Quindi proseguono regolarmente le attrazioni, soprattutto quelle collocate nei giardini del Prato. È iniziato lo smontaggio in Piazza Grande delle caratteristiche casette tirolesi e se ne riparlerà il prossimo anno. In occasione della ricorrenza di San Giovanni, visita a Sansepolcro del Vescovo Miglia Vacca. Sono stati molti i momenti che hanno scandito la visita. Incontro con i giovani, incontro con le istituzioni, incontro con i fedeli. Quindi è stata una giornata molto particolare. Quella vissuta ieri da Sansepolcro è stata la prima visita del nuovo Vescovo alla comunità Biturgenze. Queste erano le nostre breaking news.